Moroni Rinaldo Legnami Moroni Rinaldo Legnami lavora nel settore del commercio legnami. La sede comprende un ampio deposito coperto con tavolati di varie essenze, resinosi, legni duri e europei e legni esotici. Un ampio settore di obbistica è per la sezionatura di pannelli su misura e un piazzale scoperto per il legname da imballo e per l'edilizia. Si eseguono arredamenti per esterni. A Sant'Arcangelo di Romagna e in provincia di Rimini, via Felici 5. Telefono e fax 0541 62 61 47